Ciao ragazzi, bentornati a questa rubrica dedicata a Jaco e dedicata al Modern Electric Pace, meglio all'approfondimento, allo studio di questo grandissimo materiale che ci ha lasciato in eredità al nostro mito. Oggi vediamo il primo e vero esercizio di tecnica che Jaco mostra, quindi siamo al minuto 8 e 40 circa del video e Jaco fa vedere a Jaco l'esercizio che per me dopo circa 20 anni che suono il basso rimane numero uno per la nostra mano sinistra, ma non solo, che è quello di suonare una nota per tasto. Jaco fa questo esercizio partendo dal quinto tasto della corda di solo, quindi al Do. Fa più o meno questo, se non ricordo male, anzi si sposta anche in orizzontale, quindi direttamente. Parliamo ora un attimo di tasti, quinto, quarto, terzo, secondo, una nota per dito, quindi minuto, a nuovare, medio e indice. Fermiamoci un attimo e andiamo a vedere che spunti ci può dare questo esercizio. Allora, questo esercizio mi ha aiutato e mi aiuta quotidianamente con l'allargamento, chiamiamolo così, l'estensione della mano sinistra, soprattutto su un manico, come uso io per lo studio, di un preciso, che bello tosto, bello ticcio, che mi obbliga, con questi esercizi, mi obbliga, tra virgolette, a allargare di più la mia mano e questo poi mi permette, quando vado suonare il fretless, che, come sapete, non avendo i tasti, dobbiamo stare molto precisi sui tasti immaginari, sulle linee dove ci sarebbero i tasti, quindi per essere intonati, e per farciò dobbiamo allargare un po' di più rispetto a un basso con i tasti, della nostra mano, e un cuore più che suona, come suono anch'io, non sono un contrabbassista, ma il contrabbasso, anche se ci sono viteggiature diverse, gli allargamenti sono sempre, diciamo che è fondamentale fare questo tipo di esercizi, quindi già ci dà questo spunto e noi da questo esercizio possiamo, appunto, prendere spunto per crearne milioni di nostri, quindi possiamo fare come fa lui, in questo caso in senso discendente e muovendosi in modo orizzontale, da qui posso variare qualsiasi cosa, quindi sia, ad esempio, l'ordine delle note, mi fa il classico 4, 3, 2, 1, diciamo così, quarto dito, terzo dito, secondo dito, primo dito, ma io posso fare l'inverso, quindi questo è già una variazione, oppure, che ne so, secondo, quarto, terzo, primo, oppure farne una discendente, quindi 4, 3, 2, 1, una in senso ascendente, oppure se si vuole aumentare ancora un po' più, sulla difficoltà, invece di suonare solo, diciamo, quattro, quattro tasti alla volta, si può partire, ad esempio, al primo che mi viene in mezzo, dal sesto tasto, in questo caso un do bielis, con il medio, un po' con l'anulare andare sul quarto tasto, quindi a un tono di distanza, tipo questo, oppure, faccio vedere qualche esempio degli esercizi che mi invento io molto spesso, ad esempio, tenere un dito fermo su una corda, faccio vedere nettamente, proprio faccio un senso ascendente, partiamo dal La, quinto tasto della quarta corda, è il classico esercizio più comune per noi, posso anche però tenere appunto un dito fermo sul quinto tasto della quarta corda e fare il resto della variazione, oppure tenere il medio fermo, quindi, scusate, il medio fermo, in questo caso sul sesto tasto, mi muovo con l'altro, oppure tenere due su una corda, facciamo quattro, tre, due, uno, partendo dall'ottavo tasto, tengo fermo il medio dell'anulare e scendo con medio e indice, oppure per chi come me vuole soffrire e poi, ancora in più, si può fare questi tipi di esercizi, quindi partendo magari dal dodicesimo tasto della corda di Sol, che è appunto il Sol, ad esempio fare questo e questo ho fatto, Sol, Mi, Re, quindi suono tre note per corda, quindi Sol, Mi, Re, Si, La, come esposto di un semitono, faccio la stessa parte questo è un altro esempio, oppure questo tipo di parte fanno Rho a distanza di tono, quindi Sol, Fa, Mi bemolle e Re questo ci serve per esercitarci sull'allargamento, oppure per chi ha un'estensione abbastanza ampia della mano, per fare anche le quarte descendenti sulla stessa corda, quindi Sol, Re, 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 eccetera eccetera quindi divertitevi come ho fatto io in passato come faccio ogni giorno perché io una parte dello studio lo dedico a questo tipo di esercizi divertitevi a crearne dei vostri quindi oppure anche a renderli un po più musicali quindi associare l'esercizio magari una linea melodica quasi un'altra idea sperimentate divertitevi quindi in questa lezione abbiamo visto il di assunto quello di prendere spunto da un esercizio per crearne poi una miriade di varianti diciamo alternative chiamiamole così quindi già questa occasione ci ha dato uno spunto tecnico ovviamente tecnico che è utile sia per la mano sinistra ma anche per la mano destra ci deve essere questa coordinazione perfetta è vero che io mi esercito principalmente per la mano sinistra ma a meno che non li suonano così devo suonare anche la mano destra quindi utile per le entrambe mani quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie